Allora partiamo, siamo anche un po' in ritardo, chiediamo scusa di questo ritardo. Partiamo con un numero che è un numero importante, sono 13,7 miliardi di euro. È una cifra importantissima, fondamentale, sono il valore che la Corte dei Conti oggi ha definito come coperture fragili per la legge di stabilità. Noi siamo qui a denunciare questa cosa, ma non è sicuramente il primo giorno in cui denunciamo questo fattore importante. Una mancanza delle coperture nella stabilità del 2013, una legge che è stata fatta dal Governo Letta e che sarà il punto di riferimento dal punto di vista economico per l'anno 2014, per l'anno 2015 e per i prossimi anni. È un fattore fondamentale e noi questa cosa di una verifica da parte della nostra Commissione di Bilancio, Camera e Senato, della fragilità di queste coperture l'hiamo già fatta. È stata fatta ancora in dicembre, durante la legge stessa, l'abbiamo fatta in aula, l'abbiamo urlato, se così si può dire, all'interno delle Commissioni, questa situazione in cui queste coperture non erano ben definite. Noi abbiamo preso una posizione importante, chiedendo anche l'intervento con una lettera, una lettera fatta al Presidente Boldrini ancora il 13 dicembre e una fatta al Presidente Giorgio Napolitano il 21 gennaio del 2014. Sono lettere fondamentali e importanti che determinano la nostra buona volontà, la nostra volontà di poter dare una continuità al lavoro fatto all'interno della Commissione. Un lavoro che, oltre alla fragilità delle coperture finanziarie, voleva mettere in mostra quello che abbiamo visto, una legge di stabilità che era Marchettara, una legge di stabilità che conteneva effetti microsettoriali, localistici, effetti che producono una profonda allontanza da quello per cui è stata prevista la legge di stabilità, che è un livello completamente diverso, un livello nazionale. Noi l'abbiamo quindi scritto al Capo dello Stato, scritto al Presidente Boldrini, chiedendo una garanzia dal punto di vista costituzionale, anche sulle coperture di bilancio. Non abbiamo avuto risposte, ve lo dico già subito. E quindi veniamo oggi sicuramente non a prenderci meriti, ma a constatare che quello che noi diciamo è vero, spesso ci accusano di chissà che cosa, di magari qualche momento in cui utilizziamo qualche forzatura per mettere in luce queste situazioni, ma noi crediamo di essere veramente l'unico faro puntato all'interno di questa democrazia. Ed è un faro puntato che lo dimostriamo ogni giorno, anche oggi. Oggi l'abbiamo fatto sul Decreto per il Finanziamento Pubblico ai Partiti, lo abbiamo fatto con forza per esprimere la prima bugia di Renzi sull'abolizione per l'appunto del Finanziamento Pubblico ai Partiti, che non verrà in nessuna maniera, in nessun modo abolito, ma che vedrà semplicemente una piccola riduzione. Qualche milione di euro si passerà dal 2014 con 91, al 2015 all'incirca con 98, fino a calare intorno ai 70 milioni di euro nel 2018 e 2017. Poi cambierà nome. Nel frattempo il Finanziamento Pubblico ai Partiti avrà inserito al suo interno anche una norma per avere la cassa integrazione a tempo indeterminato, una novità nel panorama pubblico. Per cui le persone che lavorano all'interno dei partiti potranno avere una cassa integrazione, non con una limitazione di tempo, ma a tempo indeterminato. Questi sono dati che possono uscire, per il grande merito del Movimento 5 Stelle, di una forza incredibile da noi all'interno delle commissioni, all'interno dell'Aula parlamentare. Ci accusano qualche volta di non essere concreti, ma noi sulla concretezza basiamo la nostra opera all'interno del Parlamento. E ne faccio un esempio. Nel Decreto 1.000 e proroghe siamo stati capaci di far passare un nostro emendamento con il quale finalmente abbiamo potuto togliere il commissario che dal 1980 gestiva il terremoto dell'Eripigna, quindi 34 anni fa. Questa è la concretezza del Movimento 5 Stelle e questo è quello che noi vogliamo essere entrando nel Parlamento. Per cui io credo che sia da sottolineare come, ci dispiace dire queste cose qui, come al solito quando capita di dover dire ve l'avevamo detto. Noi vi abbiamo detto che non c'erano le coperture finanziarie per questa legge di stabilità e vi erano una legge di stabilità costruita per i grandi poteri forti di questo Paese e che hanno preso in mano, dopo il Governo Letta, ancora con più forza il Governo del Paese e questa maggioranza. Lascio adesso a Laura Castelli la parte tecnica e vi spiegherà in modo ancora più corretto la parte di bilancio. Grazie a tutti. Oggi è la quarta, credo, conferenza stampa che il Movimento 5 Stelle fa parlando di coperture finanziarie e spero non sia la quarta conferenza stampa che passi inosservato perché si tratta un tema che sembra molto lontano dalla vita reale dei cittadini. Noi abbiamo letto attentamente quello che la Corte dei Conti ieri sera ha pubblicato e dire che ci siamo ritrovati in toto è dire poco perché i nostri atti, le nostre parole che sono visibili dei mesi scorsi dicono esattamente quello che oggi la Corte dei Conti dice. E che cosa dice? Dice che questo decreto, che la legge di stabilità ha delle misure microsettoriali che non potrebbero essere inserite dentro la legge di stabilità perché va contro la legge di contabilità nazionale. Vi ricordate abbiamo già fatto una conferenza stampa su questo, cosa molto grave. Dice che non c'è crescita e che non c'è risanamento significa che la legge di stabilità non serve a nulla cosa che dicevamo anche noi, ossia oggi fare una legge di stabilità non ha nessun senso quando un governo cambia flussi finanziari ogni quarto d'ora perché è quello che succede. e poi dice che l'utilizzo di fondi che non sono certi e non sono sicuri di essere incassati non possono essere considerate coperture quindi la legge di contabilità dice chiaramente che si deve coprire un decreto con delle fonti certe e questa legge di stabilità non ha questa caratteristica. tre cose molto gravi che però non hanno scosso più di tanto il paese tantomeno il tesoro che si è subito mosso dicendo che è tutto a posto, non c'è niente di preoccupante. Da una parte ci viene da dire che la politica ci ascolti di più perché noi saremo i populisti però sulle cose tecniche mi permetto di dire finora passi falsi e errori non ne abbiamo fatti. dall'altra chiedo e chiediamo dov'è il controllo dell'Europa quell'Europa che tiene sul nostro paese affiato su collo e poi non si accorge di tre errori grossi come quelli che sono stati commessi sulla legge di stabilità. Di sicuro il nostro punto saldo è il ripristino delle regole perché non è ammissibile che questo paese continui a non seguire le regole. Ora io capisco che in un panorama come quello che abbiamo vissuto negli ultimi vent'anni di politica italiana sia difficile riprendere a far buon uso delle regole però è un atto dovuto soprattutto quando si parla di soldi pubblici. Ricordiamo che sulla legge di stabilità è stata messa la fiducia quindi non è stato un documento o comunque una legge passata così con la convinzione di questo Parlamento e le nostre grida d'allarme non sono state mai ascoltate tanto che i due presidenti di Commissione, Bilancio, Camera e Senato hanno fatto spallucce quando noi abbiamo fatto rilevare quanto questa legge di stabilità andava contro le regole. Quindi noi oggi oltre a mettervi al corrente di queste cose e pregare che l'informazione arrivi diretta nelle case degli italiani perché devono sapere che su una legge di stabilità 13 miliardi non ci sono 13 miliardi e 7 siamo qui a chiedere le immediate dimissioni dei due presidenti della Commissione Bilancio Camera e Senato Presidente Boccia e Presidente Azzollini la responsabilità palese di questi due soggetti si evince dall'articolo 121 del regolamento che sottolinea la loro responsabilità nel momento in cui un atto esce dalle commissioni per cui noi ci sentiamo di dire che questo Parlamento non è tutelato con queste due figure che non sono garanti delle regole non sono garanti dell'utilizzo dei soldi pubblici. Allora, nei calcoli della Corte dei Conti c'è un po' di tutto ci sono degli acconti che in realtà sono acconti che non possono essere certi e certificati ci sono anche le cosiddette marchette noi avevamo calcolato le marchette più o meno in un miliardo, quasi due c'era stato difficile fare un calcolo invece degli acconti quindi non avevamo fatto un conteggio puntuale diciamo che non immaginavamo così tanto 13 miliardi e 7 sono davvero molti. Grazie.